Ciao a tutti! Come state? Io molto bene, soprattutto perché ora ho una libreria ordinata! Ebbene sì, sono riuscito a fare, diciamo, abbastanza pulizie di primavera nel ribaltare totalmente la mia libreria e renderla invece un posto civile, mentre prima sboccavano libri ovunque. Insomma, un massacro! Per ora ho fatto ordine. Ho mantenuto più o meno l'ordine per casa evitrice oppure ordine per tematica in alcuni casi, ad esempio per quanto riguarda l'arte, per quanto riguarda i libri di cinema, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda i romanzi, mi sono basato su casa evitrice e collana e ho deciso di adottare un metodo che prima non avevo mai utilizzato, ovvero il metodo libri orizzontali e libri verticali, e credo di aver trovato il mio giusto equilibrio. Quindi, siete pronti a vedere come ho organizzato la mia libreria? Un bookshelf tour aggiornato? Non starò a dirvi libro per libro, semplicemente per il fatto che sennò viene un video eterno. Vi faccio un po' vedere, vi faccio vedere gli highlights, un po' così, ma in linea generale siete pronti per questo viaggio? Io spero di sì. Quindi, andiamo! Bene, inizierei prima a svelarvi che cosa si cela sopra la mia libreria, in particolar modo alcuni vinili. Ad esempio abbiamo il vinile degli Sugar Cubes, che è l'ex gruppo di Bjork, un vinile di Bjork, che appunto riguarda il singolo Innocence, il vinile di Lana Del Rey, che molti avete notato, Norman fucking Rockwell, e il vinile degli Shushu Nina, un vinile che mi aveva gentilmente inviato ad un editore, che si chiama Suono, e sostanzialmente è una compilation che raccoglie diversi artisti italiani che fanno cover di pezzi di Yoko Ono. Ma abbiamo anche qualche libro, ad esempio abbiamo la graphic novel Kokoro, di Eigort, e qui abbiamo un libro di design, The Design Book, tutti i The Passenger che ho di Iperborea, che appunto è questa collana di libri di viaggio, se vogliamo, e in cima troviate invece Il Colore dei Fiori, che è un libro di cui vi parlo spesso, è un campionario cromatico di fiori. Servirebbe per realizzare dei bouquet, ma in realtà io lo adoro come libro estetico principalmente. Qua abbiamo invece due cofanetti d'arte, ad esempio Le Stagioni di Okusai e Roshige, e Le 36 Vedute del Monte Fuji di Okusai, e altri due libri d'arte, Waa sul design giapponese, e Shunga appunto sulle opere Shunga dei Grandi Maestri del Lukioe. Questa invece è la prima libreria, come vedete ho mantenuto un certo ordine per quanto riguarda la casa editrice, e appunto ho mischiato libri in verticale e libri in orizzontale. Iniziamo subito qui, ad esempio qui abbiamo La Nero, Nero Produzioni, dove loro, principalmente adoro la loro collana, i libri di Notte, che è una collana di saggi, di cui ad esempio vi ricorderete sicuramente complotto di John Higgs di cui ho parlato spesso, ma anche ad esempio Censura Subito, insomma, libri che molto spesso vertono anche su argomenti di attualità, politica. Hanno fatto anche qualche romanzo, ad esempio La Fila, ve lo ricorderete, è un bel distopico della letteratura contemporanea araba, molto interessante, e ad esempio Le Visionarie, che è una raccolta di racconti di autrici che amano flirtare con i generi di fantasy e fantascienza. Qui abbiamo sopra due libri della Sixteen Sixteen Second, ad esempio l'ormai iconico Casa di Foglie, e anche Sono uno scrittore giapponese, che io acquistai semplicemente quando scoprì che uno dei personaggi principali era proprio Bjork, e io morto praticamente, ho adorato. Qua abbiamo anche, l'ho inserito qui perché secondo me si adatta un po', con la linea editoriale di Nero, nonostante non sia un libro della Nero, ma è un libro di editore, ed è Introfada, il manifesto fantapolitico per la liberazione degli introversi, sostanzialmente un libro che ho adorato tantissimo quest'anno, di cui vi ho parlato spesso, e qui abbiamo invece Quodlibet, un'altra casa editrice che adoro particolarmente, loro fanno dei libri veramente bizzarri, ma allo stesso tempo interessantissimi, ad esempio questo è Un'Atlante delle Micronazioni, ovvero Atlante di Nazioni, molto spesso anche da un solo abitante, che esistono nel mondo, non sempre riconosciute, ma sicuramente interessanti e esistenti comunque. Poi c'è il catalogo delle religioni più strane, sostanzialmente, ma hanno fatto anche, ad esempio, questo splendido romanzo di cui vi parlai, La Casa di Cartone, che è un bellissimo romanzo di amore contemporaneo. Qua sopra, oltre ad alcuni altri libri della Quodlibet, come ad esempio i libri di Georges Perec, abbiamo anche, ho inserito anche due libri di Notte e Tempo, semplicemente per il fatto che c'era un'assonanza con l'autore, quindi abbiamo La vita e istruzioni per l'uso, che in realtà è edito Burr, e L'attentato a Sarajevo, che è edito Notte e Tempo. Poi, sinceramente, siccome lì c'era un libro Notte e Tempo, ho aggiunto un altro libro da loro edito, che è l'inventario di alcune cose per due. Qua sotto abbiamo Mea Delfi, tra cui spicca sicuramente, ad esempio, spiccano i libri del mio amatissimo Emmanuel Carrère, ad esempio, Quante volte vi ho consigliato Vite che non sono la mia, o ad esempio L'Avversario, beh, eccoli qui, c'è anche Limono, Virregno, insomma, ci sono tutti quelli di cui necessito per amare costantemente Carrère, ma ci sono anche altri libri, ad esempio, vi ricorderete, di Tokyo Express e di Matsumoto Seicho, o ad esempio Come Cambiare la Mente, i libri di Nabokov, e qui abbiamo, invece, deciso di inserire qua davanti i libri più piccini che ho di Adelphi, di questa mini collana, tra cui sicuramente vi ricorderete Il Gatto e Noi, o ad esempio L'Occhio di Nabokov, che ormai è rimasto la storia per essere un libro che ha cercato effettivamente di cavarmi un occhio mentre ne parlavo, me lo sono tirato addosso, quindi abbastanza ironica come faccenda, e qui sotto abbiamo appunto altri Adelphi, ad esempio La Prigione della Fede, che è il libro da cui è tratto il documentario Going Clear su Scientology, abbiamo i libri di Oliver Sacks, insomma, altri Adelphi qui. Qua sopra ho inserito, invece, dato che ci si avvicina agli Iperborea, ho inserito La Stanza di Jonas Carlson, perché è l'autore svedese, è un libro che molto spesso di consiglio, che sono contento che, nonostante sia una piccola chicca perduta, in tantissimi lo recuperiate, e ho inserito il romanzo russo un po' trasgri, Boys Don't Cry, perché era in associazione, diciamo, per casa editrice, la ISBN Edizioni. Qua partono, invece, gli Iperborea, questi, in quest'edizione, che erano uscite, insieme, in collaborazione, col Corriere della Sera, e poi abbiamo Atlante, leggendario delle strade di Islanda. Ma gli Iperborea non si ferma, non sapete quanto amo questa casa editrice, quindi eccoli qui tutti, a partire da, ad esempio, i libri di Friedrich Sjöberg, la sua trilogia del collezionismo, il nuovo arrivato, Mamma è matta, papà è ubriaco, e, ad esempio, perché ci ostiniamo, che è un altro suo libro piuttosto recente, ma vi ricorderete anche degli altri libri che vi ho consigliato, ad esempio, Tutto Quello Che Non Ricordo, Norwegian Blues, Isola, eccetera, eccetera, insomma, un bel bottino di Iperborea, che in realtà continua qua sotto, ad esempio, Come Dimenticare, Il Libro del Mare, e qui, invece, partono alcuni feltrinelli, ad esempio, io ho amato tantissimo Le Origini del Male, di Yu Yong Yong, non solo un grande appassionato di thriller, ma questo l'ho adorato veramente tanto, o ancora, ad esempio, io devo ancora leggerlo, e ce l'ho qui, che aspetta da molto tempo, L'Educazione, che è un libro che so che è piaciuto molto, ma ho, ad esempio, anche in questa edizione Delitto e Castigo, come sapete, è uno dei miei romanzi preferiti, Yumiri, Oro Rapace, e poi qua c'è una sfilza, sostanzialmente, di Mishima, che è abbastanza, si erge verso l'abisso, e che continua qua sotto, quindi qua, diciamo che non ho mantenuto, in realtà, la questione case editrice, anche perché, comunque, di Mishima ne ho veramente tanti, e ho preferito fare un'associazione per autore, diciamo, quindi è abbastanza libero, il modo in cui ho organizzato la mia libreria. Qui, oltre al racconto dell'ancella, partono, diciamo, un po' di case editrici indipendenti, quindi abbiamo la Sur, di cui vi consiglio spesso, i libri di Neumann, quindi le cose che non facciamo, e vite istantanee, e successivamente abbiamo, ad esempio, degli addi di editore, sicuramente vi ricorderete di Lanterna in Volo, ma io vi ho recentemente parlato, anche di Pyongyang Blues, e ho amato molto, anche Feste e Lacrime, tra l'altro, avevo anche intervistato l'autore, Prabh Dayun, ed è una persona dolcissima, qui abbiamo, ad esempio, anche due libri della GOG editore, altra casa editrice indipendente, molto interessante, in particolar modo, Il Diavolo e l'Impostura, e qui, invece, abbiamo un libro della SEM, di Amy Ampril, che è un'autrice americana, decisamente da riscoprire. non vi ho fatto vedere che qui abbiamo anche un libro di Clichy, per il semplice fatto, che è un libro di Jean Cocteau, e io avevo anche un piccolo libricino di Jean Cocteau, che appunto è il libro bianco, che ho infilato strategicamente proprio lì. qui, qui invece, abbiamo, ad esempio, nei libri di una casa editrice, che si concentra molto sulla letteratura asiatica, che voi sapete mi piace molto, Metropoli d'Asia, in particolare, libri di autori cinesi, come ad esempio Han Han, Le Tre Porte, che io ho acquistato, perché era citato, in Lanterna in Volo, e poi mi sono fatto prendere la mano, sostanzialmente. Siccome là c'è un Clichy, qua ho deciso di mettere un altro libro di Clichy, che è un libro di True Crime, su un delitto avvenuto nell'università di Harvard. Ho inserito ad esempio anche questo libro, Storie assassine di Quirny, perché appunto ho edito l'orma editore, e qua ho deciso di tenere più o meno le case editrici indipendenti, due libri di Fandango, Febbre, Amatissimo, tra l'altro andatevi a recuperare la mia recensione, la mia recensione e intervista con Jonathan Bazzi, l'autore, e un altro libro che devo ancora leggere, Zucchero e Catrame di Cardaci. Poi qua abbiamo, dato che c'era un True Crime, io faccio delle associazioni un po' strane, me ne rendo conto, me ne rendo conto, c'è anche il padre dei libri True Crime, ovvero A Sangue Freddo, di Truman Capote. Qua sotto invece abbiamo, diciamo, un'esplosione di graphic novel, qua diciamo che ha vinto l'ordine dei libri che ci stavano sostanzialmente, vedete ci sono ad esempio Indomite, Cheese, e qua ho fatto un mischione di editori, però ho fatto una divisione per tipologia di libri, è stato molto complicato perché ne ho diverse, e quindi ho giocato veramente ad incastro, proprio a Tetris. Ecco la seconda libreria, che gioia, che gioia, che ardore, e partiamo subito con gli Einaudi. Allora, io gli Einaudi li ho divisi per collana più o meno, e anche un po' per colore, nel senso che qua ho tutti gli stile libero, gialli, ormai iconici, tra cui sicuramente, che vi ho consigliato tanto, Uccidi i tuoi amici, ma anche Cat Person, veramente bello, ho diversi libri della Cask, che è l'autrice dietro la trilogia, resoconto, transiti e onori, poi vabbè, imponente, infinite jest, e qua invece ho gli Einaudi, quelli con la costa azzurra. Non sono esattamente la stessa collana, perché ad esempio questo libro di Michel Foucault, Io, Pierre Riviere, non è in un'altra collana, però comunque per associazione di colore, l'ho inserito qui, diciamo, lì abbiamo adesivo dei McEwan, ma anche i Meno di Zero di Ellis, e alcuni libri di Simone de Beauvoir. Qui invece partono, diciamo, gli Einaudi, quelli con la copertina sbarazzina, 4, 3, 2, 1, i libri di Carver, McEwan, i vecchi Murakami, a me piacevano tantissimo in realtà queste edizioni, e poi abbiamo il Repalido di Wallace, insomma, una bella selezionecina. Poi ho deciso di suddividere gli Einaudi bianchi tra tascabili e invece quelli con la copertina rigida. Quelli con la copertina rigida li ho messi in orizzontale, sia qui che qua sotto, mantenendo comunque un ordine alfabetico tra di loro, mentre, diciamo, quelli tascabili li ho messi in verticale, questi che sono rigidi li ho messi in verticale semplicemente perché non ci stavano ed erano troppo pochi, e questi tascabili li ho messi comunque in orizzontale per mantenere un certo equilibrio. Qui abbiamo sicuramente, a parte che tra i rigidi ho questa bellissima edizione di Glamorama di Ellis, stupenda, che non è più quella in commercio, e abbiamo anche qua diversi libri di Ellis, ad esempio American Psycho, poi qua sotto ci saranno le regole dell'attrazione, infatti eccolo lì è nascosto, qui abbiamo dei Murakami, le ricette della signora Tokwe, che ha questi sbarazzini peptali di ciliegio, insomma, un po' così, un po' una selezione abbastanza nutrita, diciamo, e guardate, 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 basta proprio, devo mettere a fuoco questo fuoco sbarazzino, ovviamente non poteva mancare la nausea di Sartre, e oltre questa pila immensa, si erge un libro veramente spaventoso, ovvero Il Mistero.doc, è un libro tipo di 1700 pagine, che sostanzialmente mi piace definire letteratura glitch, perché si parte da questo misterioso documento che non si può aprire per entrare in deliri della mente, un romanzo stranissimo, e sopra ho inserito questo romanzo che io in realtà ho messo lì, cioè ho voluto sempre leggere perché ho visto il film polacco, no, ciecoslovacco credo che sia, tratto appunto da questo romanzo Il Bruciacadaveri, che il film l'ho amato molto, ed è stato edito da Miraggi, una casa editrice indipendente, io l'ho inserito qui perché la vecchissima edizione era invece di Einaudi, e comunque la Costa Bianca, secondo me, ci stava bene nel mood, diciamo poi bianco e rosso, loro due stavano bene, insomma, e viva! Il Mistero.doc, quindi, apre le porte alla mia selezione di saggiatori, e viva! Eccoli qua, tutti nel loro splendore, questa qua è proprio la libreria bianca, anche perché poi mi ha, sapete perché ho deciso anche di riorganizzare la libreria? Oltre al fatto che era una cosa che abbastanza mi girava in zucca, una ragazza mi aveva detto che era disturbata dal fatto che c'era un libro rosso all'interno degli Einaudi, che banalmente era l'edizione, la vedete da imponente, è l'edizione integrale dell'assassino del commendatore di Murakami, e quando ho letto questo commento, effettivamente non ho fatto a meno di pensarci, e quindi se stai guardando, grazie mille, è colpa tua. Tra i saggiatore, ad esempio, io vi ho consigliato Città Sola, stupendo, ho anche dei libri di Thomas Ligotti, che è un autore che da più tempo mi spingo a voler conoscere, non ho ancora letto niente, però questa cosa è abbastanza, è abbastanza da vergognarsi, poi ho Acqua Dolce di Emezzi, che è un libro che vi ho consigliato spesso, e anche questo libro, come dimenticarlo, il libro che ha inaugurato la serie Pacco Polacco, stupendo. E qua ho inserito anche dei libri che, pur essendo del saggiatore, non hanno la costa bianca, quindi Kerel de Brest, di Jean Genet, un libro che svela in retroscena, scabrosi, dei fast food, e poi ho inserito questi due libri, fondamentalmente perché c'era dello spazio, quindi Bella di Giorno, che in realtà edito E.O., e un'edizione di La Sonata a Kreutzer. Siccome là, nello scaffale sopra c'era l'edizione E.O., qui ho inserito due libri dell'edizione E.O., fondamentalmente, La Traversata di Philippe Lanson e Il cielo di Singapore di Sherlyn Theo. E qua sopra abbiamo dei Voland, ad esempio Autori Ucraini, qua ad esempio Nero Ananas, che era un romanzo candidato al premio strega dell'anno scorso, e poi qui abbiamo i Safarà, che è una casa editrice che a me piace molto, casa editrice indipendente, di cui vi ho consigliato spesso a Matka. Qui sopra abbiamo due libri, diciamo, miscuglio. Viscere, l'ho inserito perché è un romanzo, è una raccolta di racconti dell'edizione Pidgin, che secondo me era abbastanza in mood con quelli accanto, sostanzialmente. Mentre è un mistero perché Pippi Calzelunghe, sia lì, è uno dei miei romanzi preferiti di quando ero bambino, però diciamo che qua dentro a livello tematico non c'è azzecca molto, però, oh, ci stava lì e quindi è lì. Sotto invece si ergono minacciosi i minimum fax, tra cui un minimum fax sbarazzino che ha la costa nera e che è appunto mio padre il pornografo, un libro di Chris Offutt che devo prima o poi leggere, ma ad esempio qua abbiamo i libri di Mark Fisher che come sapete mi piace molto, a partire da The Weird and the Heary, ma ho anche il libro sulla depressione che ha scritto Spettri della mia vita che da tempo voglio leggere, o ancora il libro dello Sgargabonzi che invece ho adorato e vi ho stra stra consigliato. Qua abbiamo anche altri minimum fax, ad esempio una cosa divertente che non farò mai più di David Foster Wallace, ho un libro di Notte e Tempo che non è con gli altri perché la costa è rossa e secondo me stava meglio qui, Ragazze Elettriche, ho un libro di Walter City che ho messo qua sostanzialmente per la costa rossa e poi ho due libri tra Asgri, Il Pasto Nudo, vabbè ormai iconico di Barrox e Vrong di Andrà con Sony che come sapete l'ho beccato a caso in biblioteca scoprendo che l'autore è mio compaesano e ha scritto questo romanzo onichilista molto particolare. Poi diciamo che per assonanza di colore ho messo anche questo libro di Sudabollati Boringhieri Tanti Piccoli Fuochi e questo libro di un autore islandese in realtà non è un autore a caso. Io lo acquistai al libraccio perché Bragi Olafsson è stato da Tempo un collaboratore di Bjork nelle sue vecchie bende quindi dopo si è dato la scrittura e quindi io subito. Qui abbiamo Codice Edizioni e altra casa editrice con un catalogo interessantissimo questo spaventoso tomone chiamato Il libro dei numeri che in realtà mi interessa molto ma la sua mole è abbastanza inquietante potrei sfruttare il periodo di quarantena per poterlo leggere in realtà e Febbre di Ling Ma che anche questo è un libro che mi interessa moltissimo una sorta di critica al sistema del lavoro con gli zombie stranissimo ho una vecchia edizione molto bella tra l'altro di L'uccello che girava le viti del mondo di Murakami che non è edita in Audi ma è edita Baldini Castoldi ho un libro di Guanda Io e lei Manattan un libro di Limonov Zona industriale edito Sandro Teti e questo che è un super classicone di Wisman L'abisso qua sotto invece ho Neri Pozza di Neri Pozza spicca in particolar modo l'autrice Natsuo Kirino che a me piace molto e Tanizaki altro autore giapponese estremamente importante ma abbiamo anche Fazzi con Fazzi vi accorgerete subito di Anima che è proprio qui di Muawad autore molto interessante e Isabella Santa Croce che come sapete nonostante le critiche a me piace molto tra cui WM18 che secondo me tra i suoi libri più interessanti ma abbiamo anche banalmente Stoner che ormai è un classicone del catalogo Fazzi e sopra abbiamo dei Marcos i Marcos in particolare lo sapete che io amo molto La schiuma dei giorni di Boris Vian qui abbiamo un romanzo che avevo acquistato al libraccio a seguito di una recensione che avevo letto è un romanzo a tema LGBT numeri di John Reshy poi ho questo libro che mi era stato inviato da UTET che ho detto no vabbè devo leggerlo L'insostenibile leggerezza del governo del cambiamento è una pagina da è un libro scritto da una pagina facebook molto famosa che è all'interno del ministro poi ho questo libro edito edito Casa Sirio La notte in cui sono a Sven Vat e da sempre devo leggerlo insomma Trainspotting dato che siamo nell'ambiente club trasgrigiovanile ci stava bene lì e poi ho questo distopico molto particolare chiamato L'alfabeto di fuoco edito invece Black Coffee qua invece parte Sellerio in particolar modo vi renderete conto dei Tomoni Tokyo Soundtrack Una vita come tante poi qua ho due piccini che sono L'autunno a Pechino di Boris Vian e Picnic a Denging Rock da qua si parte a Marsiglio in particolar modo la loro collana di romanzi giapponesi che io adoravo e poi hanno smesso di farli quindi petizione per farli tornare tra cui La Luce P che era un romanzo assurdo su una tizia che si sveglia e scopre che il suo pollice è stato sostituito da un pene adoro in realtà è un romanzo molto meno trash di quello che sembra estremamente complesso e siccome si partiva col Giappone io ho messo anche Sayonara Gangsters di Genichiro e di Tobur che è un romanzo bellissimo stranissimo ma ve ne parlai spesso e poi due libri Atmosphere Il Paese dei Suicidi di Yumiri e un libro di Osamu Dazai La Studentessa e altri racconti poi per assonanza di colore c'è Pasolini Teorema romanzo stupendo e film stupendo quindi recuperatelo qui un tomone gigante di Houellebec che è una raccolta di scritti interviste eccetera eccetera inaugura La Nave di Teseo in particolar modo abbiamo Serotonina di Michelle Houellebec un altro suo romanzo Estensione del Dominio di Lotta che è il primo romanzo di Houellebec e ve lo consigliai mi ricordo nel momento in cui lo lessi l'avevo amato molto ad esempio qua abbiamo Il Sussurro del Mondo di Powers che è un romanzo che ha fatto parecchio discutere e qui abbiamo invece Impilati i Bon Piani che ho diviso in base alla collana se vogliamo ad esempio noterete subito la verità sul caso Enrique Berre non l'ho ancora letto io l'ho comprato solo perché me l'avete considerato in tanti però devo aspettare il momento giusto perché a pelle non mi ispira molto ma tutti mi avete letto che è bellissimo e quindi boh devo aspettare il momento adatto diciamo qua abbiamo altri Bon Piani queste edizioni qua più piccirille vedete che ho ad esempio dei Tanizaki poi c'è un Camus da qualche parte dove è? ah ecco lo straniero di Camus era nascosto eccolo lì lo vedete adesso è lì piccino e resiste in sostanza qua abbiamo ad esempio anche dei Pier Vittorio Tondelli Camere Separate Un Weekend Postmoderno che è un bellissimo libro che raccoglie gli articoli che Tondelli scrisse per raccontare gli anni Ottanta veramente interessante qui abbiamo altri Bon Piani a parte questo che in realtà è in inglese The World Goes On di Krasnaur Kai che io ho inserito qua semplicemente perché come vedete qua sopra ho dei libri dell'autore editi da Bon Piani Satantangome L'Ancolia della Resistenza e Il Ritorno del Barone Wankheim qui ho altri Bon Piani più vintage diciamo a partire da Crash di Ballard ad esempio o L'Età della Ragione di Sartre La Gatta di Tanizaki che in realtà ho anche in un'altra edizione quella più recente nel Ripozza e qui invece ho le edizioni Essay che è una casa editrice molto raffinata che pubblica dei libri realmente di valore ad esempio io vi consiglierò per sempre Storia dell'occhio di Georges Bataille e le edizioni Essay continuano anche sotto continuano anche sotto abbiamo ad esempio Jean Cocteau Klosowski Pierre Rivière insomma autori molto spesso francesi di gran classe e a volte un po' biricchini in fatto di tematiche controversie eccetera eccetera qui ho una grossa selezione di libri in inglese principalmente letteratura giapponese che non è mai stata tradotta però ho anche Columbine di Dave Cullen che è un famoso celebre saggio di True Crime sul massacro della Columbine High School il celebre caso in cui due studenti entrarono in questo liceo americano e compirono delle sparatorie è un saggio estremamente interessante mi sorprende che non sia uscito in Italia soprattutto dato che all'estero ha avuto enorme successo ma qui ho anche appunto come vi dicevo tanti romanzi principalmente giapponesi anche se qua ho Crudo di Olivia Lane che io acquistai dopo aver letto Città Sola e l'ho amato moltissimo mi è piaciuto molto ho anche questo libro che in realtà avevo iniziato a leggere mi stava piacendo ma è scritto in slang in slang latino e quindi cioè in latino americano intendo e quindi facevo una fatica e mane a comprenderle molto spesso i dialoghi e quindi niente l'ho in realtà lasciato lì The House of Impossible Beauties è un romanzo ambientato nelle bowl ovvero le feste sotterranee delle drag queen negli anni 80 ad esempio raccontate in Paris is Burning mi interessava molto come romanzo però diciamo che i limiti di lingua miei almeno per conoscere determinati tipi di slang mi hanno fatto abbandonare per il momento il libro qua è vero ho altre atmosfere ma semplicemente perché sono di Ryu Murakami 69 blu quasi trasparente ed eccoli qua i Murakami Ryu che sono tanti abbiamo Audition Piercing che vi ho consigliato tantissimo e anche i due Murakami usciti precedentemente in italiano da Mondadori Tokyo Soup e Tokyo Decadence qui invece il quaderno canguro sempre di Atmosphere cioè la casa editrice Atmosphere di Abe Kobo perché ho tutti gli Abe Kobo che non sono stati tradotti in italiano in realtà la donna di sabbia ovvero the woman in the dunes si ma è fuori catalogo quindi ce l'ho in inglese l'ho letto in inglese è un autore che mi piace tantissimo anche l'uomo scatola uscì in italiano per Einaudi ma è fuori catalogo quindi ce l'ho in inglese bellissimo poi qui ho altri autori coreani in questo caso ad esempio ho Wang Jungion che in realtà è l'autrice di questi due romanzi I'll Go On e One Hundred Shadows e ho sentito che è molto bello ah e poi tra i libri in inglese ho anche Kill Em All di John Neven che è il seguito di Uccidi i tuoi amici questo ve lo recensi che attualmente è inedito in Italia ma deduco che uscirà ad esempio per Einaudi come tutti gli altri suoi libri almeno credo di sì spero di sì in sostanza mi era piaciuto molto ma ma è più bello Uccidi i tuoi amici a mio parere qua Mondadori tutta Mondadori praticamente sì a partire da questo splendido libro sui racconti di Edgar Allan Poe obscura e qui abbiamo i libri Mondadori sostanzialmente più classici da il libro tibetano dei morti ebbene sì Dostoevsky Gogol Goethe Pasolini con Petroglio abbiamo George Orwell 1984 e poi lassù due libri che non sono Mondadori però ci centravano bene col mood classici erano tipo supplementi della Repubblica se non ricordo male il giocatore di Dostoevsky e l'urlo e il furore di Faulkner qui abbiamo altri libri Mondadori in particolare ad esempio questo libro che devo ancora leggere se devo essere sincero una sola goccia di sangue che è un libro sui segreti e le bugie sapete quei libri un po' cospirazione sulla Silicon Valley sì ogni tanto mi leggo anche queste cose però ho letto che è interessante come saggio quindi ok non so perché c'è un guanda ma ci stava bene col mood le 120 giornate di Sodoma di The Sad il mood un po' classici ho un meridiano di Kids ad esempio e poi ad esempio ho Polanic Cavie e Rabbia oltre che naturalmente la società dei gatti assassini che come sapete è stato uno dei miei libri preferiti da piccolo ma qua ad esempio ho anche altri Mondadori qua ho i classici come si chiama gli Oscar piccoli Oscar piccola biblioteca degli Oscar Mondadori questi qua con la cover con la costa gialla ho un saggio sul sugli omicidi di erba vicini da morire nella testa del dragone che è un saggio che ho appena letto sulla sulla Cina contemporanea poi ho diversi Polanic come vedete Invisible Monsters che è uno dei miei preferiti Diary Ninna Nanna ho alcuni libri di Isabella Santa Croce un libro di Sartre e alcuni Oscar classici tra cui ad esempio Addio le armi di Hemingway o Blomov Kawabata che è un autore giapponese molto importante o Matsumoto Seicho di nuovo che in questa edizione che non è in Audi e non è ad Elfi ma Mondadori come sabbia tra le dita e Helter Skelter che è un saggio sulla famiglia Manson quindi estremamente interessante e qua vabbè abbiamo degli ospiti in sostanza e anche qui e anche qui ebbene sì questa è semplicemente uno scaffale dedicato alla saga di Harry Potter ci sono tutti sia in italiano che in inglese qua c'è un unicorno qui c'è A History of Magic che in realtà è semplicemente un blocco note e qua ho la saga di Nevernight che devo ancora concludere mi sono fatto trascinare dall'entusiasmo cercando un po' di avvicinarmi al mondo fantasy che come sapete non fa molto per me qua abbiamo libri di matematica ad esempio matematica fisica insomma possiamo andare oltre perché a voi interessano i romanzi secondo me ma ci sono anche quelli qui abbiamo un mix tra ad esempio lì abbiamo in mezzo a parte il super pop up libro pop up di Harry Potter qui abbiamo i libri di Koji Suzuki perché questa in teoria doveva essere all'inizio la zona più commerciale se volete un po' più thriller eccetera eccetera ma ho solo questi libri praticamente i libri di Koji Suzuki che è un autore giapponese che molto spesso è stato avvicinato a Stephen King e poi ho quel libro Robin Herding il party che è un altro thriller quindi sostanzialmente l'ho messo lì e poi ho diversi libri illustrati innanzitutto ho questo manga il club delle divorziate e poi ho diversi libri dell'ippocampo ad esempio Sandalino che è un bellissimo libro pop-up Atlante di Zoologia Poetica prima e dopo qui sotto due libri di Michael e Mirko Palla Rossa e Palla Blu meravigliosi e qui ho delle bellissime monografie illustrate sugli artisti ad esempio Schiele Klimt aspettate questo fuoco mi farà dannare Klimt Bacon Hopper insomma e sono editi tutte da Centauria Poi qua ho diversi Ippocampo ad esempio Infografica della Seconda Guerra Mondiale Anatomia ve ne ho parlato spesso Universi Il Mabarata bellissimo graphic novel e qua c'è un po' di moda c'è un po' di moda questi sono due graphic novel di Bao che non saperevo dove mettere le ho infilate momentaneamente lì La tettonica delle placche e Neon Brothers che secondo me adorerò cioè mi ispira veramente un casino e qua c'è la moda c'è la moda Prada Yves Saint Laurent Dior Louis Vuitton Chanel che fanno parte della collana sfilate dell'ippocampo veramente splendidi questi libri poi c'è Punk Couture che è un libro estremamente interessante edito da Nomos sulla sullo stile punk sostanzialmente Il Parigino che è una guida allo stile della iconica stilista ed ex modella francese Venice de la Fressange per la moda maschile in questo caso nonostante lei sia molto più famosa ad esempio in campo editoriale per La Parigina che è il libro dedicato invece alla moda femminile e poi c'è Wax che è un libro estremamente interessante sui tessuti wax iconici nella cultura ad esempio africana e c'è anche oltre che ad essere un libro di moda in realtà è un libro di storia di antropologia estremamente interessante ed eccoci qui a quella che sembra essere l'ultima libreria e in realtà non lo è perché qui continuano un po' gli ipocampi ad esempio voi vedete qua gli splendidi classici Minalima illustrati da Minalima il giardino segreto il libro della giungla il Alice nel paese delle meraviglie c'è ad esempio Stanze tutte per sé un libro di cui vi ho ormai rotto le scatole e qui abbiamo inizia un po' ah poi vabbè anche di questo ve ne ho parlato tanto il giro del mondo in 80 alberi insomma qua c'è Ippocampo qui invece abbiamo inizia un po' l'arte perché questa è un po' più la la libreria artistica diciamo a partire da ad esempio Escher qua sotto poi abbiamo dei libri della Contrasto che è una casa editrice meravigliosa specializzata in libri di fotografia hanno fatto questa collana un po' letteraria dove si unisce la fotografia ha degli scritti ad esempio un libro splendido su Comizi d'amore di Pasolini un libro meraviglioso questo qui giallo io sono il fotografo sull'incontro sostanzialmente tra Antonioni e Cortassar abbiamo un libro su Maurizio Cattelan là sopra un libro di Basquiat questa l'opera interminabile è un saggio meraviglioso di Einaudi sull'arte contemporanea qui abbiamo anche un libro molto interessante che è Lo squalo da 12 milioni di dollari che sostanzialmente è un libro se vogliamo che indaga anche i meccanismi economici dietro l'arte contemporanea e qua c'è un po' mix ad esempio io vi ho parlato molto anche di Atlante delle emozioni umane bellissimo questo libro o ancora vi ho parlato dei libri di Derek Jarman che è un regista iconico in particolar modo Il giardino di Derek Jarman edito di recente da nottetempo qua sotto continua un po' a parte che io ho i musetti questo libro bellissimo di stoffa che lo mettiamo un attimo qua è per bimbi però io sono stato colto dalla tenerezza e il gioco di Colorama che è un gioco che ora è fuori catalogo ma è stato ispirato da questo libro di cui vi ho parlato spesso Colorama di Cruciforme che è un libro che spiega sostanzialmente è un campionario di colori e dietro ogni colore si nasconde una curiosità o perché si chiama così insomma è estremamente bello e insieme ci sono tanti libri sul colore e sull'arte ad esempio Storia dello Sguardo carinissimo bellissimo questo libro è un libro molto più accademico però è realmente interessante sullo sguardo nell'arte ho combinato un caos sì forse sì non ci sta più niente aiuto ah no perché c'era questo che ha questa sostanza questo inserto che è una ruota in realtà che gira il colore ed è il colore perfetto altro saggio sul colore insomma questo è un po' il mood di questo scaffale abbiamo ad esempio anche The Secret Lives of Color o ancora ad esempio l'iconico cromorama di Falcinelli e insieme a questo c'è anche guida portatile al visual design di Falcinelli e qua c'è un po' di arte tra 33 artisti in tre atti la biografia di Marina Abramovic abbiamo ad esempio un libro bellissimo di Gilberti su Yayoi Kusama e poi un po' di moda ad esempio c'è questo libro su del Toilet Club di Milano un libro sulle icone della moda degli anni 90 Champagne e Supernova un libro che racconta di Galliano e McQueen e poi ho dei manga sostanzialmente oltre al gioco colorama ho i manga principalmente di Junji Ito di cui vi ho parlato tra cui Uzumaki Tomi e Goss non è suo ma si adeguava molto al genere è un manga horror macabro sono il tipo di manga che mi piace sostanzialmente e quindi eccoli qua i Junji Ito io adoro quest'autore in generale qui abbiamo un po' di musica e di cinema anche se diversi libri mancano perché ho trovato un'altra sistemazione che vedremo dopo al di là del fatto di questi libroni abbiamo l'esempio Bjork in primis questo libro è il libro post rarissimo quando l'ho trovato io ero tipo deceduto ma abbiamo anche l'esempio il libro di Terry Richardson su Lady Gaga un altro libro su Bjork naturalmente sempre presente qua dietro c'è un libro sui Radiohead e qua abbiamo un po' tutto ciò che possiamo associare alla musica a partire dai saggi bellissimi di Simon Reynolds Retromania Post Punk oppure Energy Flash che è su la cultura rave abbiamo un graphic novel su Nick Cave e poi qua abbiamo un po' tutti quei libri che esprimono invece la mia anima oscura che come sapete a me il black metal piace quindi abbiamo l'antologia black metal compendium edita da Alcat da Tsunami edizioni Lords of Chaos meraviglioso libro sulla storia insanguinata del black metal norvegese abbiamo un libro sui Dead Can Dance che io adoro abbiamo questo libro è fantastico praticamente un libro sull'Outsider Music ovvero la musica realizzata nella cameretta quindi a livello super indipendente con artisti realmente bizzarri e si chiama Songs in the Key of Z e poi abbiamo un po' di cinema ad esempio la Cineteca degli Orrori che è un interessantissimo libro sui B-movies o ancora diversi libri di David Lynch il libro di Enrico Gezzi poi abbiamo Michelangelo Antonioni Kinky Duke eccetera eccetera qua sopra dan zan 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 confezioni di un'ereditiera di Paris Hilton ma soprattutto oltre a questi bellissimi fumetti dizionario dei film brutti a fumetti bellissimi dovete averli assolutamente c'è anche il libro dell'iconica Michel Visage di Varuls fantastica qua sotto abbiamo un po' di bizzarrie varie nel senso che principalmente sono saggi allora qua ho deciso di tenere tutti i saggi Castelvecchi allora avevano questa colana negli anni 90-2000 contatti che io adoravo tra cui ad esempio i libri di Tommaso Labranca autore come sapete per me è iconico tra cui Andy Warhol era un coatto ma abbiamo anche qui altri libri di Labranca ad esempio principalmente a progetto Elvira questo ve ne ho parlato Vraghina Roda bellissimo poi abbiamo il libro di Morris che tutti dicono sia orrendo ma dovevo averlo nella setta che è un reportage giornalistico molto interessante sulle sette in Italia questo libro che è stupendo la tv del sommerso che sostanzialmente è un saggio sulle tv locali realmente interessante oppure il primo libro rarissimo di Giovanotti yo brothers and sisters siamo o non siamo un bel movimento adoro poi vabbè c'è il libro sulle invenzioni giapponesi inutili c'è un libro di Buñuel c'è questo libro il cinema secondo Hitchcock che secondo me è perfetto come prima lettura per chi vuole approcciarsi ai libri di cinema poi ad esempio il libro rosso dei pensieri di Miao la società dello spettacolo di Guy Debord testo essenziale per chi è interessato a comunicazione e new media e qua sotto abbiamo sostanzialmente uno scaffale che per metà è dedicato ai libri ad esempio di sessualità e femminismo questo libro è gay ad esempio ve lo consiglio molto ho ancora questo libro che è estremamente interessante pelle queer maschere straight che è un libro sulla rappresentazione omosessuale soprattutto omonormativa nei media abbiamo la trilogia della sessualità di Michelle Foucault ad esempio di cui finora io ho letto solo la volontà di sapere ma devo assolutamente mandarla avanti poi abbiamo i libri di Katie Ecker che lei è sostanzialmente stata un'autrice femminista piuttosto particolare diciamo estrema ma iconica Pornage che è un interessantissimo libro che in sostanza viaggia è un viaggio all'interno dei feticismi e le ossessioni del sesso contemporaneo qui abbiamo ad esempio anche un libro di Mario Mieli bellissimo elementi di critica omosessuale poi abbiamo poi diciamo che qua inizia anche il viaggio all'interno di libri che mischiano il sesso con il web ad esempio o comunque le tecnologie da sex robot a future sex ad esempio e qui appunto grazie a questi libri ci si apre a libri invece che trattano effettivamente di comunicazione e new media che sono libri che mi interessano molto tra essere una macchina di Marco Connell la vita segreta che io ho adorato di Andrew Hagan il libro di Edward Snowden insieme ma soli di Sherry Tarkall stupendo leggetelo che cosa sono gli algoritmi anche questo è molto interessante e poi c'è anche questo libro che devo leggere assolutamente anche questo è un libro sulle tv non locali ma di quartiere e io a me interessano un sacco queste cose probabilmente sono l'unico ma veramente adoro e ci portano direttamente all'ultimo scaffale dei libri sostanzialmente estetic wow quanti ad esempio libri di fotografia abbiamo l'amatissimo Codex Rafinianus due libri di storia della grafica del graphic design libri fotografici dei miei fotografi preferiti Renang Araki tantissimi questo libro Magnum la scelta della foto che è spettacolare è un libro su Francis Bacon Paperback Crush che è un libro sull'estetica dei libri anni 90 per teenager invece Paperbacks from Hell sui libri horror degli anni 70 80 ho anche questo libro Inside North Korea sul diciamo sull'architettura è un libro di fotografia in realtà ma che si concentra sui lati estetic della Corea del Nord libri di moda Yoshi Yamamoto Rick Owens Rei Kawakubo McQueen Comme des Garçons La Chapelle altro fotografo che mi piace molto insomma ah poi vabbè poi vabbè poi vabbè di chi parliamo Flory Legion altro libro che vi ho strastraconsigliato poi sul comodino della tv io ho questi libri ad esempio che io ho messo qua un po' perché ci stavano bene un po' perché non c'era spazio altrimenti ad esempio qua ho Made in North Korea che è un libro sul graphic design nordcoreano io adoro due graphic novel di Juan Corneillat che io amo e poi questo è un libro di Adelphi sugli esseri immaginari anzi a malapena immaginari cioè esseri viventi particolarmente bizzarri ma non è finita ragazzi perché sopra alla libreria dei dvd io ho altri libri ho un libro Tashen sul cinema giapponese ho altri saggi di cinema in generale tra cui ad esempio anche le guide per maniaci dei film dei libri delle librerie libri sul cinema horror c'è il libro di Jane Birkin il libro di Godard insomma qualche libro di cinema è decisamente finito così come i libri di musica che si sono divisi tra qui e lì ovvero sopra i cd sostanzialmente qua abbiamo ad esempio dei libri sui Joy Division e oltre il muro di Berlino che è un libro sul post-punk nella Germania dell'est cioè adoro e il libro sul post-industrial italiano oltre ad alcuni dvd di Bjork e il box dei cd dei Joy Division là invece c'è l'iconica Miss Keta elettronica high tech che è un libro sulla nuova musica elettronica principalmente The Constructed Club libri sulla cultura rave un libro sui BTS un libro su Billie Eilish perché voi dovete sapere che questa questa fila di cd sono sostanzialmente dischi pop elettronica e questa invece alternative post-punk black metal insomma c'è un po' di tutto e quindi niente questa era la mia libreria il mio bookshelf tour aggiornato come vedete non si limita a una sola libreria ma ci sono libri sparsi un po' ovunque a seconda dei casi detto ciò fatemi sapere voi se vi è piaciuto un po' come ho sistemato e se vi è piaciuta anche la mia collezione di libri come sistemate voi la libreria e soprattutto è ordinata o è incasinata io spero che quest'ordine duri abbastanza per il resto io vi aspetto al prossimo video vi mando un bacione ciao ciao